Non torno qua, sono Barbara, immobiliare Bambacini. C'è un problema con la sua casa a Fiorano, è una cosa molto grave. Io sto andando lì con le chiavi, se no sfondano la porta. Cosa sta succedendo qua? A lei cosa sembra? Si è rotto un tubo. Ne presento il suo vicino di casa, Masolino del Cardo, 1596. Se il Cardo potesse parlare, direbbe Vaffanculo! A lei e a tutti i suoi tubi marci! È un imbecille. È per me un grandissimo onore proporle di dirigere la sacra rappresentazione del Venerdì Santo. Voi non potete fare questo. Possiamo, possiamo. Immagini che figura di merda si è fatta finire sui giornali perché ho distrutto un affresco del Cinquecento. Maestro, lo sa che il laboratorio con lei in carcere mi ha cambiato la vita. Ma lei come ha messo da qui a perere di notte? Ho letto Sulla Nazione che dirige la sacra rappresentazione. Sulla Nazione? Sì, sì. Piacerebbe tanto alla mia nonna. È molto religiosa. Signora, dovremo fare delle fotocopie. È guasta. Barabba! Virgola. Liberate Barabba! Aspetta, un attimo, un attimo! Però adesso, Gianni, abbiamo un problema. Serio. Ricco. Gesù. È per questa Pasqua che sono venuto al mondo. Questa notte stessa, prima che il gatto canti tre volte... È gallo. È gallo canti tre... Prima che il gallo canti tre volte. Gallo. Ma cos'è c'è qui, c'è? Ma è... È muco. Che cos'è? Che schifo. E ora ci si è soffiato il naso qualcuno qua.